Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Buon giorno, sto nella scuola e volevo spendere un paio di parole in merito a San Valentino, ma a quello ci arriviamo per tardi, quindi ci sentivo. Ok, sono a casa quindi possiamo parlare. Che cosa ne penso di San Valentino? Non sono fidanzata, come sapete, quindi non potrei parlare, ma in realtà penso di avere comunque diritto a della voce in capitolo. Penso che San Valentino sia una festa commerciale come Natale e come le altre feste d'altronde che è stata pensata solo per far spendere soldi alla gente, perché tutti stanno lì con la cosa di, no, San Valentino domani devo fare un regalo alla mia fidanzata, al mio fidanzato, eccetera, quando poi sappiamo benissimo tutti che il vero amore si dimostra tutti i giorni e non con una semplice festa. Nonostante ciò continueremo comunque a festeggiare San Valentino il 14, quindi è inutile che io stia qui a parlare, però fatemi sapere anche le vostre opinioni in merito. E mi scuso se non potete commentare che i commenti sono disattivati, ma in realtà non ho una più pallida idea di cosa abbia passato YouTube, che mi sta praticamente disattivando i commenti sotto quasi tutti i video. Dice che si disattivano sui video che contengono minori, ma io sono maggiorenne, quindi non ne ho idea. Buongiorno, è il 14 mattina e io non sono andata a scuola questa mattina perché era assemblea e quindi ho deciso di non andarci perché mi scocciavo. Sono andata con mia mamma a accompagnare mia sorella a scuola e sono andata successivamente a fare la spesa e poi sono tornata comunque a casa e volevo risolvere un attimo un problema che mi si è rappresentato ieri sera quando stavo cercando di editare questo video. Praticamente che cosa è successo? Ve lo spiego semplicemente. In pratica ieri sera vado per accendere il computer perché volevo iniziare ad editare questo video e non mi si avvia. Non si accende in nessun modo dopo che avevo tolto la polvere dalle ventole del computer senza aprirlo, senza fare niente, solo con l'asciughe capelli insomma, con l'aria fredda ovviamente, altrimenti si bruciava tutto e io ho tolto questa polvere perché era davvero intasato. Bene, poi lo metto in carica come sempre e non si accende, non dà segni di vita. Ho provato per una buona oretta ad avviarlo ma niente. Stamattina quando sono tornata a casa dalla spesa insomma, ho provato ad accendere il computer, si è acceso, infatti ho salvato tutti i file che avevo, che mi servono su una chiavetta USB da 16GB in modo che se dovesse improvvisamente morire almeno non perdo tutto. Ammesso e non concesso ovviamente che dopo si riaccenda perché ancora non l'ho riacceso quindi forse dovrei fare prima una prova prima di cantare vittoria. Comunque sia continuerò ad utilizzarlo se mi sarà possibile e poi in un futuro vedremo insomma e decideremo il da farsi. Comunque fatemi sapere che cosa state facendo quest'oggi, io non farò assolutamente niente anche perché qua a Napoli c'è anche brutto tempo, sta piovendo e sinceramente quando piove mi rompo di uscire perché non ho nessuna voglia di mantenere l'ombrello eccetera. Quindi io credo di aver sbagliato scuola comunque, penso che io avrei dovuto fare l'informatico ma probabilmente niente, ho scelto il turistico e quindi ho sbagliato completamente la mia scelta. Io però direi di fare la prova del 9 quindi adesso proverò ad accendere il computer e vediamo insieme se si accende o meno perché se si accende bene, se non si accende male, a tratti malissimo. Ok ragazzi è il momento della verità, devo prendere il caricatore da qua sotto, cioè il filo in realtà perché tanto il caricatore già c'è e ci siamo, ci siamo, è andato, ok, si sta accendendo, come vedete c'è l'aspiria della batteria accesa e di qua ci dovrebbe essere quella dell'hard disk acceso ma al momento non è acceso, ok, questo lo fa sempre, non vi preoccupate, è tutto normale, è tutto regolare, adesso però dobbiamo vedere se appare la scritta ASUS sullo schermo, se appare la scritta l'hard disk funziona, se non appare l'hard disk non funziona, e non funziona l'hard disk, oddio, attenzione, si è acceso, si è acceso, cioè si sta accendendo, wow. Bene, quindi per adesso abbiamo ancora delle speranze, si sta accendendo, quindi può essere che non è definitivamente morto e potrei utilizzarlo ancora per altro tempo. e sì, speriamo che vada tutto per il verso giusto e così almeno non rimango solo con il telefono e posso continuarlo ad usare finché poi non passerò ad un fisso che come sapete è una cosa che sto bramando di fare da parecchio ormai. Io credo in te computer, io credo in te hard disk, ce la possiamo fare e possiamo andare avanti. Un minuto prima piove e un minuto dopo c'è il sole, è tutto regolare mi sembra, no? Comunque alla fine il computer funzionava, infatti ho editato tutto questo video e adesso sto andando a prendere mia sorella a scuola, quindi boh, incrociamo le dita. Suono la sole mentre la strada, mi sto preoccupando. Di nuovo il sole, wow. Non mi ricordo se già ve l'avevo detto, ma forse andiamo a Budapest con la scuola e finito. Mission complete. Ora si torna a editare i video. Vi ricordate tutto ciò che vi ho detto finora? Bene, resettate tutto perché non funziona di nuovo, cioè non si riaccende più. Vabbè, io non ho parole, questo video probabilmente sarà editato dal telefono, mi dispiace se sarà diverso dal solito, anche se comunque cercherò di farlo più simile possibile ai video che edito da Sony Vegas, perché comunque so che si può fare e magari ci metterò più tempo, ma spero di farlo uscire comunque in tempo per le 16. E niente, io vi ringrazio per la visione, vi farò sapere se riuscirò a risolvere, nel frattempo continuerò a editare video con il cellulare. E niente, noi ci vediamo in prossimi video, sempre su questo canale. Bella!